rocasse games no raga aspettate ma che sto giocando raga a parte il nome che lascia molto desiderare grand theft audio evidentemente audio nel senso che non si sente un c***o sto utilizzando il joystick per andare avanti e indietro a destra a sinistra e il mouse per e vieni qui e il mouse per muovere la visuale in questo modo best game 2019 no cos'ho fatto no l'ho chiuso già inizio ad amarlo guardate il logo della della casa produttrice ah c'ha pure la storia come si fa qui scusate ci sarà un modo per entrare dentro a sta macchina no belli checkpoint quelli belli proprio intanto il font super scopiazzato mio dio il personaggio che cavolo è un manichino non voglio manco sapere com'è il volto di questo personaggio perché sennò mi metto a piangere scusa ma la macchina a sto punto che cavolo serviva qual è lo scopo di sto gioco no e l'ho chiuso di nuovo ma poi così si chiude nella storia dei video giochi non ho mai visto un gioco che si chiude con la x del joystick abbiamo capito che questa macchina ma si può guidare in qualche modo no 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 è che me la sci a piedi me la sci a disgraziato non posso neanche saltare perché con la x non si salta ma si fa qualcosa di interessante questo gioco oppure no amanti e bambini piccoli li fanno così c'è ma sto gioco detto seriamente detto seriamente in quanto tempo l'avete fatto in due secondi l'avete fatto non credo ci avete messo non so due mesi ma manco un mese uh c'è una rampa se non sbaglio che la devo saltare a piedi a due all'ora raga non sanno più che cosa inventarsi ne stanno due di macchine posso prendere una di queste macchine devo andare a piedi ogni volta io riesco a spostare la macchina ma sei serio ma qualcuno ce lo mette il freno a mano oppure no oh oh niente le macchine sono diventate delle molle io non posso star a giocare a certi giochi cioè ma se voi ci mettete nelle macchine come fate a non farle utilizzare scusa questo è il centro di informazioni pronto c'è qualcuno in casa niente preferivo quello dell'altra volta quello di uncharted almeno lì c'era la musica c'era i rumori c'era Nathan Drake rimbecillito che se non andava a sbattere contro una parte e l'altra non lo so ma almeno faceva qualcosa cosa che fa cammina soltanto corre si fa per dire corre va va che alberi ben definiti ma riusciremo almeno a fa qualcosa non lo so a giocare a basket no secondo me questo è ancora nella fase di manco di incredibile è riuscito assaltando una parte del genere aspetto un attimo ma quindi non mi dire l'obiettivo di questo gioco sarebbe prendere tutti i soldi proviamo a fare nascondin cioè a nascondare la con i soldi non lo so che è l'unica cosa che possiamo fare in questo gioco ci metterò gli anni perché per come corre questo non posso manco chiamarlo omino perché non è un omino è una schifezza lo sapete tutti o altri soldi 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 ma che stai con gli sci non lo so con che cosa stai non posso manco prendere una macchina che almeno con la macchina andavamo più veloce forse poi capisce che la macchina andava alla stessa velocità nostra di come va questo amarpione poi oltretutto che bel cerchio quello della minimappa magnifico veramente quello del radar che radar bellissimo nei videogiochi sapete tutti quanti che smette la freccia la freccina per dire tu stai qua tu sei questo puntino qui no qua proprio niente non c'è niente aspetta molol tre di vento sì vabbè raga per come va lento questo ci mettiamo gli anni c'è qua passano le vacanze poi che capa c'ha questo è una capa cilindro mo che scale grandiose anche il quadro quello lì c'è quello quella foto di quell'artista che non mi sto ricordando il nome questa è la vera evoluzione dei videogiochi questi sono i veri videogiochi questo è il videogioco non del 2019 del 2000 di tutto il mondo di tutto di tutto di tutto questo proprio spopolerà ve lo dico io questa è la beta di un di un grand theft auto che andrà fin in capo al mondo proprio dominerà il mondo alla faccia proprio questi ultimi come a dire ma te li mettiamo semplici alcuni ma quello è un fiore hai un asterisco e qui come faccio a salire e vabbè ma io mica so superman c'è madonna come salta pare che caga nel frattempo ma io che cavolo ne sapevo dai e potevate scriverlo cioè a quest'ora sarei arrivato sai dove con questi salti no capita a me io ho fatto cerchio con cerchio e con x si esce dal gioco non l'avrei mai detto ma caspita che c***o non hanno messo manca la musica sto gioco no 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 ecco ma muore o incredibile superman ma che è sta roba o parkour incredibile parkour intanto non si arriva da nessuna parte da qui bello ah sono morto e giustamente me che ne sa più io ah con f oh mio dio no macchina no e allora sei scema ho scoperto come prendere la macchina oh mo si che si fa sul serio beh in realtà si va più veloce così non l'avrei mai detto oh mo che è tokyo grift grift si come no siamo ritornati qui che cosa abbiamo risolto niente oh mo si cappotta e vabbè ne va da car ma va da cagar oh si è buggato sto facendo buggare il personaggio ok namo ne va da car voi quanto ci volete scommettere che devo prendere quella rampa a tutta velocità perché là sopra sta qualcosa io non credo di farcela ma noi ci proviamo vabbè no 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 dove sto ecco in mezzo al mare in fondo al maaaar oh non ci credo hanno fatto anche la luna raga però io non posso giocare a sti giochi dai oh facciamolo per bene io veramente pensavo che con la macchina sarebbe andata più veloce la cosa invece no esatto contrario ma io fra tutti i giochi che potevo giocare proprio a questo non c'ha il volume poi eh mettiamo pure questo in mezzo dammela a me sta macchina no ah ok oh mio dio veramente so già che ci metterò tre anni eh vabbè eh madonna santa ma che è una chiavica sta macchina a me sembrava di averlo visto qua dentro quindi e infatti vedi certo non ci sarei riuscito ad arrivare con la macchina vedi che qui ci sono le montagne le contromontagne eh vedi vedi oh si è parcheggiata la macchina almeno una cosa buona l'hai fatta eh prossima fermata non lo so frena niente io freno ma questa non frena niente non frena la macchina si si lascia mappato eh ehi che mi metto pure a giocare a sti giochi qua cioè mi fanno proprio salire nervoso olè oh 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 ecco una macchina che galleggia così tanto sopra l'acqua non l'ho mai vista grazie tutte ne vado a car cioè sapevano trovare un nome diverso per ogni macchina tutte che vogliono andare a cagare ma vi ci mando io a cagare ma qui si può passare che è l'autolavaggio questo il problema è questo che io non so dove andare a cercare perchè è grande come mappa fa cagare però è grande che il gioco del secolo no 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 girati ecco 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 io volevo cercare di finirlo sto gioco solo per vedere come cavolo andava a finire che cosa c'era la fine no col cavolo mannaggia la miseria eh raga io ve lo dico già questa è l'ultima volta se magari la prendi la macchina vi faccio vedere io mo si si buonanotte no dai non mi dire che sei incastrata mannaggia la miseria e vuoi saltare mannaggia te no proprio per dire che devo fare tutto il giro vabbè già che la ce n'è uno andiamola a prendere due e con questo facciamo tre c'è veramente non ci posso credere che palazzi oh oh tre ore per prendere un costo vedi per un manichino sto costo avevate tempo da buttare voi eh cioè chi ha fatto sto gioco ma io facevo prima di andare a piedi qua c'è il mare se solo saltassi al posto di rimanere seduto manco fossi seduta sul sedile io l'ho detto chi ha fatto sto gioco deve aver avuto una pazienza enorme poi pazienza per sta cacata quattro quadrati due rettangoli un cilindro ma guarda che il mio falegname con 30 mila lire la fa meglio c'è manco le unghie quelle mo mo sorto di ponte io non so come cioè questo ponte è fatto di carta bellissima però l'ombra forse l'unica cosa fatta bene sembra Peter Pan addirittura c'è il parkour manco fosse Minecraft sali ecco perfetto io lo sapi salta ok magnifico comunque adesso me ne sono accorto praticamente noi sulla minimappa sul radar siamo segnati come una lucetta non c'è un altro e chi l'ha visto? un altro si buonano salta salta si è buggato vai c'è un gasolo che rimane bloccato moire wooo aspi oh che è successo? magari salta cos'è? l'acqua superman oh ma questo non l'ho visto forse sta qua forse sta qua non pensavo si potesse salire da qualche casa sembra una scala immobili ecco questo fanno venti mo gli ultimi otto dove si trovano? niente non li trovo questi ultimi cinque non li trovo ma cudo paes questa è la replica sta cagata qua mettete un bel mi piace commentate e iscrivetevi vi sono ancora fatto bella ragazzi che che che